è iniziata la festa da mobilia megastore un mese di convenienza per festeggiare i 20 anni di attività sui più bei prodotti dell'arredamento oltre al 50 per cento di sconto avrai anche un altro 20 per cento di sconto extra con gli latini questo è il mese giusto per acquistare il tuo nuovo arredamento 50 più 20 per cento di sconto extra e puoi pagare fino a 48 mesi anche a tasso mobilia megastore festeggia 20 anni di attività 20 anni di qualità e convenienza tutti i giorni a caserta sud